Buongiorno Buongiorno Dio Io non sono Ma non ci la cosa E tu sei Io ho soccato niente Oh, data mi tocca Anna Ehi, le mani, Ernest E innissima il mio piede Ma non è in tasto L'intasto Ma in tasca, eh? Ma in tasca, eh? C'è una piastola di quelli... E te te lo... Non sta graffi? No, 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 no. Questo è un teletro. No, no, di subito che c'è la nuva dietro. No, no, che se qua mi sta per quando c'è fluio allora... Ma cambia anche... Ma no! Ma non produce quella di vivo con un poco di live! D'alvevo che si invaliva! Nel senso che c'è la versione che ci metterà a ziccabbastà. Ma un microfono ce l'ho, però... ...mengono attività? Ahahahah ho andato a tirare sulla tabacca eh ho visto nella macchina cioè la bambina è che ora dove è? il carovo, non si può realizzare il carovo e poi facciamo cantare gli ungili è un esterno no, no, è un esterno perché non bisogna essere attrezzati con la baritura per questo per vedere guardano quello che sanno no, 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 no no, no, no ecco, 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 ec No, perché il capo non ha nessuno, questo lo vuoi scartare. No, ma poi se non sono andati in bar, ma che se vuoi fare, non sapete, non guarda. No, non lo so, perché mai abbiamo... Grazie.